Fabio Affinottini, che è il figlio di questo uomo, sta preimendo con la riuscisa della bandiera italiana qui su, in piazza del Petticino. E sta girando con l'alpato e con il nostro tipo di decadori della bandiera apprezzo di effettuare il loro lavoro. Adesso ve la lascio vedere in religiosa silenzio, guardiamocela per uno spettacolo unico, adesso ve lo spettacolo unico, il primo lancio della bandiera, il grande Italia, dentro l'Italia. Grazie. 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 Grazie.